Grazie a tutti. Il direttore della ricerca e sviluppo in engineering, poi Fabio Cobrullo, lui è Chief Technology Officer al laboratorio di cyber security della Leonardo, ben nota, e the last but not least della componente industriale abbiamo Stefano Pileri, amministratore delegato di Italtel, che prego anche lui di accomodarsi. Questa è la prima, diciamo, il panel è diviso in... vedo Pino Di Pietro che si affanna a entrare, stai tranquillo. La prima parte è relativamente a una domanda che io ho formulato in maniera preventiva ai panelist, nel frattempo c'è il contest switching, ed è stata quella, diciamo, la parte industriale. Noi siamo, voi siete la parte industriale, si rappresentate tre importantissime aziende del settore IST a livello nazionale e non solo, internazionale direi, e di conseguenza voi cosa vi aspettate dal CNR? Che fate? Cosa vorreste? Cosa vi piacerebbe? Da tutti i punti di vista esprimete questo vostro, diciamo, desiderata, con l'idea di costruire, rafforzare delle partnership che noi abbiamo già con loro. Abbiamo partnership con Engineering, con Italtel, con Leonardo, in diversi settori. E allora, subito dopo, ci sarà invece una visione di Angelo Volpi, visione in senso non mistico ovviamente, nel senso di Horizon Europe, di quello che ci aspetta dopo il 2020, anche per cercare di calibrare gli impegni che sia le industrie, per conto loro o con noi, potremmo fare in quella direzione. Poi ci sarà una parte dedicata interna, legata alla visione di tre direttori di istituto, che sono Pino De Pietro, Claudio Montani e la Michela Spagnuolo, che vedono e raccontano un po' il CNR, come vede questa collaborazione, il rapporto che c'è, loro esprimeranno anche eventuali dubbi su necessità e così via. E infine, da una prospettiva invece, da un metallivello ancora più alto in termini di visione, Marco Conti, membro del Consiglio Scientifico del CNR, ci racconterà un po' la sua visione di come questo tipo di collaborazione potrebbe andare e così via. Quindi io partirei subito, in ordine strettamente alfabetico, se voi mi permettete, parto con te Dario. Hai bisogno di questo, Marco Ingegno? Ma guarda, faccio anche l'essenza. Sì, allora devi attirare solamente, puoi farlo in piedi, puoi farlo seduto, è importante che... Innanzitutto grazie a Mimmo di avermi invitato, credo che sia un momento di sintesi importante per un incontro fra mondo accademico e mondo dell'industria, oltre che un momento per me di estremo interesse per gli argomenti che sono stati trattati durante la giornata. Quindi ancora una volta grazie. Dal mio punto di vista, diciamo, credo che molte delle cose che oggi sono state raccontate possano essere di estrema interesse per l'industria italiana. L'industria italiana oggi, in realtà, sta affrontando diverse sfide da un punto di vista di posizionamento di mercato. E sicuramente, diciamo, le competenze scientifiche che hanno, che sono state oggi raccontate, per esempio su tematiche critiche, quali big data, blockchain, cyber security, sono elementi essenziali che noi quotidianamente siamo chiamati a integrare nelle nostre offerte. Come diceva Mimmo, c'è una collaborazione in essere su diversi progetti di innovazione e ricerca e questa può essere potenziata, ma direi che più che potenziata può essere sistematizzata. Quello che per me sarebbe auspicabile è creare dei tavoli permanenti di collaborazione che possano in qualche modo definire un elenco o una lista di priorità che poi possano essere sviluppati e congiuntamente realizzati utilizzando anche gli strumenti che l'Italia, con poco sforzo e poco efficacia forse, ma l'Europa sicuramente con più efficacia e con maggiore incisività, riesce a metterci a disposizione. Oggi parliamo di H2020, noi come engineering siamo sicuramente attivi da sempre nei programmi comunitari, siamo attivi in tutte le iniziative sistemiche che a livello comunitario ci sono, probabilmente quello che è necessario per essere più efficaci è dare una connotazione alla nostra partecipazione che sia coordinata e definita a priori. Ci troviamo insieme nei progetti, ma forse nei tavoli strategici dovremmo avere maggiore condivisione delle cose da fare, delle priorità. La sfida oggi, da un punto di vista industriale, è sintetizzabile con una cosa che si chiama digital transformation del mercato. Chiaramente tutto quello che abbiamo realizzato e che stiamo realizzando in termini di tecnologie innovative diventa elemento competitivo nel momento in cui noi andiamo a proporre le nostre soluzioni per la digital transformation. Oggi, per quanto mi riguarda, la mia sfida e il mio impegno verso l'azienda è sicuramente quella di arricchire le soluzioni che l'azienda offre verso il mercato con competenze, soluzioni, asset che guardino in particolare all'intelligenza artificiale e alla blockchain in particolare. Detto questo, ovviamente quello che auspico è che queste soluzioni possano essere maggiormente sviluppate da una collaborazione non, ripeto, opportunistica o legata al progetto, ma sistemica con il CNR. Molte grazie Dario. Siccome hai, diciamo, sei stato perfettamente nei tempi, anzi, ti avanzano a che minuto, io volevo chiederti questo. Stante lo status quo della collaborazione con il CNR, tu in qualcosa di più specifico dove ti aspetteresti maggiore collaborazione, più performante, legata a questioni regolamentali, il fatto che i ricercatori hanno problemi di rewarding lavorando con voi perché non scrivono troppe pubblicazioni o cose di questo genere, o questo è sorpassato? Francamente, diciamo, le problematiche che metti in evidenza sono problematiche che trovi non in generale, può esserci l'eccezione per cui ti trovi ad affrontare problemi di regolamenti o altre problematiche di questo genere. Per me, ripeto, quello che è essenziale, sarebbe essenziale, è non confinare la collaborazione ai progetti, ma definire a priori quelle che sono le aree di collaborazione che devono essere sviluppate. Noi abbiamo bisogno di condividere piani strategici. Oggi è stato presentato per sommi capi, per grandi linee, quello che è il piano di innovazione del CNR, bene, sarebbe opportuno che ci fosse in qualche modo un'ibridazione di questi piani con quelle che sono le priorità aziendali delle aziende, per creare dei piani di innovazione del sistema paese. Questo è, secondo me, fondamentale. È chiaro che per fare un'operazione di questo genere bisogna cedere da entrambe le parti ad arrivare a un momento di sintesi che oggi ancora non c'è. Però paradossalmente, prima si diceva, c'è il gruppo di lavoro sulla cyber security, il gruppo di lavoro sull'intelligenza, il laboratorio nazionale sulla cyber security, il laboratorio nazionale sull'intelligenza artificiale, trovo paradossale che questi laboratori siano laboratori a connotazione accademica e che non ci sia un'ibridazione con l'industria. Questo è, secondo me, il più grosso limite. Dobbiamo rompere la barriera della divisione perché l'innovazione non è ad appannaggio dell'industria per fare business o ad appannaggio dell'accademia per fare ricerca, ma è una sfida comune. Prima di passare la parola a Fabio Crullo, volevo chiedere a Emilio Campana, il nostro direttore di dipartimento, se volesse accomodarsi qui con noi, anche per eventualmente chiosare alcune questioni che a livello di dipartimento hanno un impatto, possono avere un impatto, dovrebbero avere un impatto. Grazie Emilia. Prego Fabio. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il CNR e il professor Laforenza per questa opportunità. Io sono arrivato un po' tardi perché venivo da Roma, ma sono riuscito a seguire gran parte del convegno e vorrei ripartire da alcuni, ho trovato molto interessanti e ho trovato che risuonavo veramente su alcuni invited talk e vorrei provare a rispondere alla tua domanda partendo dai grandi temi che sono stati delineati. Anche perché sono state prospettive che hanno dato un segno di un'esperienza decennale in come è andato avanti il mondo dell'alta tecnologia. Allora, il professor Minerva. Il professor Minerva è stato molto interessante come ha dipinto l'evoluzione della rete, il sopravenire del cloud realizzato da grandi operatori internazionali e che forse, se vediamo oggi qual è lo stato delle telecomunicazioni in Italia, almeno a livello di innovazione, non dico a livello di infrastrutture, si è risolto quasi in una vittoria della componente I della ICT sulla componente di telecomunicazione. Come forse, mi sembra, si veda anche un po' dei corsi di laurea, forse voi ne sapete più di me. Fabrizio Cagliadi, non so se è dottore o professore, non vorrei fare delle gaffe. È stato estremamente interessante e risuona assolutamente nella visione industriale. Quando è stato delineato, si è detto, oggi il grid computing ha avuto dei limiti, il cloud ha stravinto, l'unico operatore ICT che viene riconosciuto a livello internazionale in Europa è la SAP, che peraltro fa sistemi gestionali. Allora, interessantissimo anche l'intervento del professor Zaneo, brillante, nel delineare come l'ICT, quando è inserito nei sistemi fisici, dimostra una fragilità e una modalità di progettazione molto meno strutturata di quella che è la progettazione della parte tradizionale, meccanica o elettronica. Quindi, tre spunti. A questo unisco uno spunto come testimonianza di tanti anni di vita nel mondo dell'ICT. Io ritengo che l'Europa nell'ICT abbia perso, nell'informatica, nelle telecomunicazioni. Ciao, ci vediamo. No, ha perso. Ha perso perché? Perché ci sono, siamo dominati dal punto di vista tecnologico, dei dati, ha perso dal punto di vista della competizione delle grandi aziende, posto che ci sono aziende come noi, come Engineering, come Italtel, cioè naturalmente esclusi i presenti, ma è indubbio che abbiamo un gap significativo. E questo gap significativo si è tradotto anche in una percezione delle nostre aziende. Per cui io vorrei sollevare il problema anche della... Non vorrei espandere troppo la domanda, ma sollevare anche il problema di come oggi viene fatto il procurement dell'ICT. Il procurement dell'ICT oggi viene fatto con gli stessi metodi con cui viene fatto il procurement delle commodity. Quindi, gare, che anche quando è una componente tecnica, io per tanti anni ho giustito gare, la componente economica poi diventa solitamente predominante. Allora, qual è il contributo che potete portare in questo settore? Noi dobbiamo trovare un modo di rifare diventare la digitalizzazione, come ha detto Dario, un elemento differenziante, per cui l'ICT does matter, perché io mi ricordo molto bene un articolo che diceva ICT doesn't matter, dei primi anni 2000. Allora, su questo ci dovete aiutare. Come ci potete aiutare? Io ritengo che si sia fatta tantissima ricerca eccellente. Il tema delle modalità premiali di carriera all'interno dell'Accademia del CNR per me è un tema valevole di analisi. Io avrei fatto il percorso accademico, ho fatto il dottorato, avrei voluto, forse sarebbe stata la mia vera vocazione, l'ho abbandonato perché facevo ricerca in settori che riconoscevano i rilevanti, ma in cui riuscivamo a pubblicare. Mi ero laureata a 23 anni, brillantemente ho deciso che non era il mio mestiere. Poi non sapevo cosa mi aspettava dopo, però, diciamo, magari a posteriori ho sbagliato. Però, anche se ringrazio la mia azienda per tutte le esperienze, però le difficoltà nel mondo del lavoro non sono di meno. Quindi, io penso che noi dobbiamo riuscire a definire degli obiettivi importanti e su questi obiettivi riuscire ad aggregare le forze. Questo è, in primo luogo, un problema di definire cosa serve di concordare, a partire dalla nazione e dall'Europa, su cosa ci serve realizzare. Dobbiamo trovare dei settori dove abbiamo ancora una possibilità di competere, possibilmente agganciate a quelle che sono le capacità competitive del nostro sistema paese, del sistema nazionale, e su quelli sviluppare delle soluzioni dei prodotti che abbiano una commercializzabilità internazionale. Credo che FP9, ma anche l'approccio che mi sembra che con molta fatica, in relazione anche alle vicissitudini che poi sono anche influenzate dalla politica, la ricerca nazionale, sta incominciando a prendere col centro di competenza, ad esempio noi col CNR, abbiamo vinto il centro di competenza Start 4.0 sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche, in maniera quasi sciaguratamente profettica sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche e proprio nella città dove poi è crollato il Ponte Morandi, e quanto si potrebbe fare su questi temi. Quindi, in sintesi, individuare delle priorità, aiutarci con la vostra capacità di visibilità internazionale, di competenze, e anche con i collegamenti che avete a livello istituzionale, con le istituzioni, con il governo, a individuare delle priorità, e su queste priorità creare delle collaborazioni di lungo termine, che non siano i progetti, ma che abbiano un obiettivo, e che abbiano, e questo è l'altro punto dei progetti di ricerca dove io vedo successo, un end user a bordo, che sia seriamente interessato al requisito. Il tema della carriera penso che sia un punto. Da un congresso, faremo un congresso. Però non mi sento preparato a discuterlo in profondità, perché conosco poco i meccanismi, salvo quella mia lontana ricorda del dottorato. Grazie Fabio. Prego Stefano, intanto io faccio mettere la foto. Ti serve subito l'immagine? No, no. Dunque, innanzitutto, come azienda Italtel, e più recentemente come Exprivia Italtel, un gruppo industriale che è nato il 14 dicembre del 2017, che è un gruppo italiano importante, che si aggiunge, se volete, a questi grandi gruppi che sono rappresentati qui al tavolo, quindi Engineering, Leonardo, e altre aziende italiane che portano un po' il digital made in Italy, come mi piace dire, nel mondo. Non sono d'accordo che abbiamo perso, ma io, prima che ammetto che abbiamo perso, ci vuole che mi devono passare sopra sul mio cadavere. Vedo però certamente delle difficoltà. Innanzitutto voglio dire una cosa, che noi come gruppo ci siamo riavvicinati al CNR recentemente, recentemente vuol dire da negli ultimi, diciamo, un po' più di un anno fa, con un accordo strategico firmato con il presidente del CNR e da quel momento abbiamo avuto la possibilità di andare nel dettaglio, cioè di fare un execution di questo accordo in maniera tale che non rimanesse un testo, uno dei tanti testi che si firmano, non certo in ambito CNR, ma in genere accade che si firmano cose che poi non vengono portate avanti. Noi abbiamo fatto un execution, stiamo facendo un execution strutturato, ci ha portato a cooperare molto di più di quanto non fosse stato prima. in ambito europeo sì, ma guardate che credo che non sia sufficiente, perché in ambito nazionale, quindi dei cosiddetti bandi, seppure hanno mille limiti, non dico quelli del Ministero della Università e Ricerca Scientifica, perché oggi è ancora un po', mi perdonerete, un po' missing come tipologia di istituzione nell'ambito dei bandi di ricerca, ci si citava ultimamente il bando relativo ai centri di competenza, adesso non mi ricordo neanche se era un tema di esatto miur, ma se non mi sei, infatti è proprio nel Ministero dello Sviluppo Economico e nelle regioni che possono essere trovate ulteriori risorse e andate a sfruttare e a utilizzare ulteriori risorse per poter lavorare insieme CNR e Industria. Quindi, primo punto, nell'ambito di questa riscoperta e avvicinamento al CNR devo dire che io ho ritrovato forti competenze, forte capacità e anche forte finalizzazione, cioè che non è vero che quando si lavora insieme non siano, almeno questa è la mia sensazione, non siano ben rappresentati e ben gestiti i temi che sono cari all'industria. Quindi, diciamo, a questo punto io ho una sensazione e una feeling molto positivo che fa esperienza, ovviamente, di un periodo recente e quindi poi vediamo, sono convinto che questo sarà anche via via che andiamo avanti. Ma lasciatemi però rispondere a che cosa dobbiamo fare meglio. il CNR si deve si deve proiettare verso l'industria. Quando dico proiettare verso l'industria come al solito come in tutte le cose bisogna promuovere le proprie attività. Ecco perché io vengo personalmente a queste conferenze a questi momenti in cui il CNR racconta quello che fa i risultati che porta a casa. La narrazione è ancora molto interna lasciatemi dire ma ve lo dico in maniera con l'affetto è ancora molto interna ci raccontate molto non solo i risultati che sono rilevantissimi ma anche molte delle relazioni che sono interne e la mia suggerimento è proiettare molto di più verso l'esterno verso i problemi dell'industria i problemi scientifici ce li avete ben presenti e quindi su quello non vi do nessuna raccomandazione. è come se il CNRS dovesse essere anche con un dipartimento di marketing posso dire che come abbiamo visto tanti bei risultati in questi dipartimenti ma certamente un pushing sul rapporto con l'industria deve essere forse più sviluppato se io posso dare un suggerimento ma anche questo spassionato. Come pure io so che questa raccomandazione non lo devo fare qua ma so anche che è necessario è necessario andare a sottolineare ad amplificare la terza missione non è possibile e questo che ho detto questo che sto dicendo non è che lo dico soltanto qua è anche se poi il mio compito essendo un uomo d'azienda è di lavorare per far crescere l'azienda però ogni volta che ho occasione di farlo io vi diciamo come dire stimolo a batterci e a battervi per introdurre delle riconoscimenti più evidenti con un peso maggiore a quelle che sono le ricerche che si fanno in cooperazione con l'industria perché non può essere che il maggior peso sia ancora oggi nel 2018 quasi 2019 soltanto dico soltanto ma non per sminuire ma ci mancherebbe altro insomma è esclusivamente basato sulla quella che si chiama la bibliometria oppure il fatto il peso delle pubblicazioni io voglio voglio come industria pretendo come industria che il peso delle delle cooperazioni dei risultati che si portano nell'ambito della cooperazione industriale sia per le vostre carriere e per i nostri risultati sia valutato di più oggi ed è estremamente importante che questo avvenga oggi dove abbiamo un rischio che ha indicato Fabio che è quello di perdere no e allora la mia richiesta qui oggi cogliendo la indicazione di Mimmo è che l'industria vuole lavorare con il CNR e con la ricerca affinché le cooperazioni reciproche possano impattare di più in quello che viene riconosciuto al ricercatore per quanto riguarda questo è il terzo punto il terzo elemento quindi ho parlato della mia esperienza personale la nostra esperienza personale col CNR che è molto positiva anche se recente ho parlato della diciamo delle richieste che io faccio che è quello di cooperare non soltanto in ambito europeo ma anche soprattutto ma anche in ambito nazionale perché ci sono delle risorse da utilizzare e utilizzarle bene terzo punto è sui contenuti io condivido che c'è una forte battaglia e qui il mio ultimo punto del mio intervento riguarderà più le reti di telecomunicazioni quindi il tema del networking delle reti è chiaro che c'è in corso una ci sono in corso molte battaglie e ci sono in corso diciamo dei posizionamenti importanti tra grandissimi blocchi nel mondo quindi adesso cito per semplicità ne cito tre il blocco europeo quello statunitense e quello cinese le reti di nuova generazione che fanno perno sull'impostazione 5G deve essere un primato europeo non possiamo pensare che essendo stati noi la patria del 3G e poi una patria un po' più smussata del 4G poi perdiamo completamente il 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 diciamo il filo sul 5G e quindi su questo noi chiederemo al CNR di cooperare fortemente ma perché? perché per preservare nell'ambito delle reti lo svuotamento in atto da parte delle grandi piattaforme uno svuotamento negativo da parte delle grandi piattaforme del contributo che dà l'intelligenza distribuita alla fornitura dei servizi con rischi importanti che abbiamo fortunatamente toccato con mano quando alcune delle grandi piattaforme questi internet champions fanno il cacchio che vogliono sui dati che prendono dai device facendo raccogliendo delle tenui adesioni al trattamento dei dati e poi facendone esattamente quello che ritengono in maniera indiscriminata allora io voglio che le reti parlo del 5G perché è quello che oggi noi stiamo ricercando e sviluppando ritornino a essere protagonista di questo scambio di dati proprio perché primo per l'abilitazione dei servizi e che non siano soltanto una cosa di piattaforme e di device due la salvaguardia del cittadino e dell'impresa nel trattamento di tali dati e tre ovviamente nella sviluppo di quelle che sono le intelligenze ovviamente del nostro continente per sviluppare le nuove reti allora io cosa credo che sia importante a parte gli sviluppi sull'ottica e gli sviluppi sulla radio che sono evidenti nell'ambito del sviluppo delle nuove reti sia sull'ottica sia sulla radio fortunatamente in Italia vi sono delle competenze forti e che vanno sviluppate e quindi quello ok bene vorrei vedere nei vostri piani ogni volta che fate una presentazione di un dipartimento vorrei vedere alla fine queste sono le industrie che stanno cooperando con me per questi risultati perché questo ci porta a questi obiettivi vorrei poi mettere in evidenza che le nuove reti diventano come sapete perfettamente software e quindi si aprono al più profondo link dei servizi lasciatemi chiamare del mondo delle piattaforme con le reti e quindi possiamo giocare un ruolo rilevante perché chi non abilita questi link software tra piattaforme e reti non ha nel futuro non avrà nel futuro le migliori performance le migliori caratteristiche e quindi occorre che noi recuperiamo una strada su questo occorre che noi recuperiamo un ruolo e possiamo farlo con le reti di nuova generazione che sono software infine come sapete dal momento in cui queste reti abilitano gli use case della massive video e quindi della internet delle cose e delle mission critical application quelle che richiedono latenze sotto il millisecondo ovviamente ancora una volta le reti sono rilevanti proprio per il sviluppo delle applicazioni allora io non voglio che le applicazioni siano semplicemente portate da un concetto che saltano semplicemente le reti ma le voglio nell'ambito di una più forte cooperazione in questa logica sta emergendo l'architettura delle nuove reti basata sul network cloud o sul fog computing chiamatelo come fare o sull'edge computing come fatto fondamentale che chi vuole sviluppare le applicazioni del futuro non è sufficiente che abbia quattro cloud sparsi nei più reconditi ambiti del mondo e che quello sia necessario e sufficiente per sviluppare delle applicazioni invece è molto più distribuito e io aspico un'era vi ricordate che nell'informatica abbiamo fatto sempre un palleggio interessante fra il mondo dei mainframe e il mondo dei cloud e il mondo dei server e diciamo adesso il mondo dei cloud si è riavvicinata a quello che era qualche quarantina di anni fa il mondo dei mainframe adesso invece il mondo del fog computing ed edge computing sta riavvicinando alla distribuzione che per noi sarà una cosa molto importante io chiedo quindi al CNR come industria di partecipare a questo tipo di battaglia e partecipare a questo tipo di impostazione e farlo con le imprese utilizzando una logica che premi questa cooperazione e spingendo le imprese qualora non lo facciano e le istituzioni a guardare con attenzione a questa cooperazione quindi diciamo privilegiando non dico privilegiando ma bilanciando di più questa cooperazione rispetto al tradizionale valutazione delle vostre ricerche grazie grazie Stefano grazie per questi spunti e chiedo a Emilio di chiusare un attimo di entrare in questo argomento dal punto di vista del CNR grazie brevissimamente intanto una risposta concreta faremo una giunta dei direttori del Dipartimento il 14 dicembre se il Presidente ci conferma poi l'incontro a Roma e in quella sede lanceremo d'accordo con i direttori degli istituti del Dipartimento di Ingegneria e CT Energia e Trasporti la nascita di tre laboratori virtuali uno è l'Urban Intelligence di cui avete visto stamattina in estrema sintesi la presentazione gli altri due sono quello sulla cyber security e quello sull'intelligenza artificiale le industrie sono caldamente invitate a far parte diciamo di questi laboratori a collaborare con questi laboratori verranno invitate in tavole rotonde diciamo in cui discutere sentire i bisogni di ricerca da parte delle industrie e orientare attraverso l'attività dei laboratori il lavoro quotidiano dei ricercatori che decidono di contribuire a quel laboratorio quindi questo è uno strumento concreto sarà un elemento di ascolto quindi non soltanto dedicato alla ricerca ma anche e soprattutto alla collaborazione sia verso il mondo industriale sia verso l'amministrazione centrale dello Stato perché questa è una parte integrante della nostra missione il secondo punto però diciamo che ci tengo poi mi taccio subito così non perdiamo altro tempo è che io raccolgo molto volentieri le sollecitazioni a collaborare con il mondo dell'industria io stesso vengo dal mondo dell'industria ho lavorato diciamo all'IBM so esattamente ho lavorato dall'IBM come dipendente dell'IBM e ho lavorato molto con le industrie e del settore della difesa come dipendente di enti di ricerca però vi faccio un esempio molto concreto se il ricercatore X del Dipartimento di Ingegneria dice che vuole essere valutato non soltanto attraverso le sue valutazioni le sue pubblicazioni ma anche attraverso la capacità di intercettare progetti o commesse industriali viene tacciato in generale di avere paura della valutazione cioè gli si dice tu dici questo perché hai paura di pubblicare poco e quindi ti nascondi dietro la capacità di fare progetti ma questo è inaccettabile per l'Agenzia Nazionale della valutazione della ricerca quindi il primo assalto che noi possiamo fare su questo fronte è un assalto che viene respinto con perdite ma perché ti dicono allora c'hai paura allora ti stai nascondendo e questo su questo capite che noi non abbiamo armi quindi o lo fa l'industria che va verso il ministero e dice signori noi abbiamo bisogno che il CNR sia valutato anche in misura della collaborazione con le industrie non soltanto con parametri di ricerca questo ci aiuta moltissimo perché se lo facciamo noi veniamo tacciati di essere di avere paura di avere paura del confronto del confronto con gli altri del confronto internazionale quindi questo è molto importante per darvi un esempio concreto e termino e poi lancio la parola ma molto concreto e i miei colleghi lo sanno bene e possono testimoniare a uno a uno quello che vi sto dicendo è che per tutta risposta quando noi solleviamo questo problema all'interno del nostro ente beh diciamo se vogliamo misurare in termini concreti qual è il grado di comprensione dello sforzo che la missione che noi come dipartimento di ingegneria facciamo nel cercare di dialogare con le industrie è la seguente cosa per tutta risposta c'è stata tolta la possibilità di fare tempi determinati quindi di assumere persone su contratti industriali quindi diciamo è vero o non è vero quindi questo è un elemento molto concreto e purtroppo è un elemento molto recente ma insomma per noi è una grande sofferenza io ho avuto modo di parlarne perché insomma in serie centrale con il presidente con i colleghi della direzione generale perché ho detto così si danneggia gravemente quella parte del CNR che cerca di lavorare e di dialogare con il mondo dell'impresa diciamo per tranquillizzare visto che è venerdì poi abbiamo il fine settimana sono carico a palettoni su questa cosa questo tipo di draconiana scelta e insensata a mio avviso scelta nasce in un framework di precariato di stabilizzazione di tantissime persone che meritano di essere stabilizzate da anni a questa parte nell'andare a evitare la creazione di nuove in embrione forme di precariato è arrivata questa draconiana discussione però questa la dice lunga come diceva giustamente Emilio cioè dove vai a colpire vai a colpire proprio in quel settore di vitalità dove accedere a finanziamenti derivati da servizi che puoi dare ti porta a bordo dei soldi tu che fai blocchi in questo momento anche se ripeto probabilmente temporaneamente io sottolineo probabilmente però questo è un segnale negativo che si dà e rafforza quelle preoccupazioni di prima vogliamo voi e Stefano no soltanto una cosa innanzitutto quello che dice quello che avete detto ci spinge come industria diciamo a come dire a lavorare su temi che non sono necessariamente del prossimo del prossimo trimestre no perché perché questo potrebbe può facilitare prima cosa seconda cosa ci spinge a noi come industria a magari valutare se il risultato di una di una cooperazione con l'impresa possa essere anche possa produrre anche per carità perché no pubblicazioni e di sicuro potrà produrre brevetti no che quindi sono anche un altro elemento importante di valutazione e per cui ok quello ci spinge anche a noi quindi grazie noi anzi io personalmente già sono andato diverse volte quando ero presidente di diciamo di Anitec Assinform all'Anvur a portare avanti come industria questo punto preciso va bene perché vorremmo vedere i pesi delle tre attività fondamentali che possano essere rivisti e che non accada quello che ha detto Emilio Campana prima quindi grazie lo prenderemo senz'altro come spunto e personalmente lo farò grazie grazie bene a questo punto passiamo sulla seconda parte prego Angelo Volpi di accomodarsi e anche i direttori colleghi direttori ovviamente siccome Emilio è anche qua se Marco si accomodate anche te in modo tale che vediamo anche lì se diremmo farcela ovviamente prego tutti di stare nei tempi ma insomma siamo abbastanza bene quindi diciamo possiamo vedere Angelo una piccola spolverata di quello che ci attende dietro l'angolo H diciamo Horizon Europe dal vostro punto di vista dell'ufficio di Bruxelles beh allora io non entrerei nei dettagli nelle virgole eccetera vi vorrei dare un quadro più generale di che cosa ci si aspetta e che cosa non dobbiamo aspettarci allora Horizon Europe nasce con una forte connotazione politica Europe perché perché deve essere importante per l'Europa il commissario attuale Moedas ha ovviamente grossi interessi e visioni nel giustificare alla gente i soldi che vengono spesi per la ricerca questo ha ingenerato una serie di micro cortocircuiti con un po' di scintilline da molte parti perché una visione il commissario purtroppo è una brava persona però è un economista e si è circondato di economisti se voi andate a parlare con i funzionari della commissione europea nella DG ricerca non trovate più nessuno che ha un background ingegneristico un background da fisico da chimico eccetera il il suo problema è questo mantra che viene circolato più volte nelle bozze di Horizon 20 che è Job and Growth ma questo Job and Growth non è detto nella sua mente e nella mente di chi ovviamente sta scrivendo il programma non è sempre detto che sia legato alla ricerca per chi non ha capito per chi non capisce veramente i meccanismi della ricerca pensa che siccome è stato riconfermato nella struttura di Horizon Europe l'IRC allora la ricerca è IRC per il resto vediamo cosa può andar bene per le industrie perché ovviamente è l'industria che crea posti di lavoro posti di lavoro creano ricchezza io su questo mi riallaccio a quello che diceva l'ingegnere Pileri sono d'accordissimo bisogna aumentare di molto la collaborazione tra gli enti di ricerca vi garantisco è un problema che hanno tutti i nostri colleghi rappresentanti a Bruxelles degli enti di ricerca anche i tedeschi è assolutamente da promuovere una maggiore cooperazione con l'industria ma il nostro interesse è promuovere la cooperazione nella ricerca non in altri in altri settori o nello sviluppo della versione nuova di Facebook è vero sviluppi nuovo Facebook ti crea probabilmente molto più posti di lavoro che sviluppare un vaccino però noi il nostro lavoro è quello di fare ricerca quello che più volte ho avuto occasione anche personalmente quasi un amico il commissario di dirgli è proprio quello cioè se voi volete solo job and growth se vi rivolgete a noi avete sbagliato avete mandato la lettera all'indirizzo sbagliato perché non è il nostro lavoro il nostro lavoro è creare conoscenza è connettersi casomai col tessuto produttivo ecc ora io questa sembra una visione un po' negativa ma di fatto da quando è partita la stesura di Horizon Europe questo messaggio sta passando tanto è vero che il commissario si era innamorato della dico per ridere no di questa economista la famosa mazzuccato che ha inventato questo concetto di mission che è una per chi ha presente cos'è lo sviluppo del sapere e anche cos'è lo sviluppo del sapere in un'industria non solo in un laboratorio industriale non solo in un laboratorio di un ente pubblico è una sonora fregnazza ogni commissario deve arrivare e deve mettere qualcosa di nuovo per lasciare una memoria di sé il commissario precedente si inventò ricerca e innovazione questo commissario si è inventato l'European Institute of Innovation pensando che si possa fare l'analogia IRC per scienza e IIT per innovazione che non funziona soprattutto chi lavora nell'azienda sa che un sistema così non funziona e l'altro problema è l'emission perché l'emission subito citando questa mazzuccato che è da 5 anni che scrive solo su questo ritirando in ballo il moonshot cioè noi dobbiamo pensare alla ricerca europea come è stata la corsa alla luna dove tutto il pubblico era interessato a questa ricerca eccetera io gli ho fatto presente alla prima occasione buona che la corsa alla luna non è cominciata per motivi scientifici non si è finita per motivi scientifici è stata una scelta politica e se ben si ricordano probabilmente io sono vecchio il commissario era giovane io mi ricordo mia mamma che mi diceva ma che cosa vanno a spendere tutti i soldi per andare sulla luna quando i problemi sono sulla terra allora cercare di inventare delle nuove strutture solamente per dare una giustificazione politica ai soldi che l'Europa dà per la ricerca e che continua a darne poco e adesso è una notizia che non è ufficiale ma sembra che abbiano raggiunto un accordo in Parlamento e probabilmente si parla di 120 milioni e miliardi scusate non 100 ma si parla di 120 che è già qualcosa ma se volete davvero riportare l'Europa al centro dello sviluppo della conoscenza nel mondo posto che ci siamo conquistati per secoli è vero che non abbiamo mai conosciuto veramente cosa stava succedendo in Cina ma se non altro diciamo che noi siamo stati centrali su questa cosa costruire un progetto che si basa solo un framework di ricerca che si basa solo sulla paura politica di oh Dio poi ci criticano perché spendiamo i soldi per la ricerca e la gente ha fame e gli agricoltori vogliono i soldi per l'agricoltura uno già così a mio avviso non si va avanti e poi il discorso è non muoviamoci troppo da quello che è stato Horizon 2020 perché tutti sono stati d'accordo tutti sono stati d'accordo a lavorare su quel progetto ma tutte le criticità di Horizon 2020 il processo di valutazione lo scarso success rate che disincentiva la gente a partecipare perché devi fare buttare via devi impiegare due tre mesi quattro mesi per costruire il tuo consorzio eccetera eccetera e poi dopo percentuale di progetti finanziati 2% vuol dire che a 98 hanno buttato via tutta quel cosa io mi ricordo lo dissi anche a Mimo eccetera signori un ricercatore del CNR che impiega tre mesi a preparare un progetto e ha il 2% di probabilità di vincere con quei soldi lì se gli paghi il biglietto del treno o dell'aereo e va in giro a cercarsi un'azienda che gli finanzia il progetto per me ha più del 2% di probabilità di trovarla allora impostare di nuovo horizon europe su evolution not revolution è a mio avviso non è quello che l'Europa ha bisogno in questo momento qui chiudo disgraziatamente tutti gli enti di ricerca con i quali noi ufficio di Bruxelles vostro ufficio di Bruxelles tra l'altro io sono un vostro collega nel senso che fino a un po' di fa anche io ero del vostro dipartimento poi intanto che ero in Giappone mi hanno migrato a Peruzzini eccetera cosa stavo dicendo non mi ricordo più a partire dal Giappone no beh comunque ecco il discorso è questo non si può solamente pensare di andare avanti con un passettino ci sono l'Europa merita molto di più questa era l'occasione buona anche dicevo appunto gli altri enti di ricerca con i quali noi siamo coordinati ma coordinatissimi a parte Donatella che abita da noi ma a tante altre face non le vedo non le vedo spesso noi abbiamo quasi tutti gli enti di ricerca dei paesi membri dell'Unione nello stesso palazzo non ci telefoniamo usiamo l'ascensore eccetera anche loro hanno lo stesso problema però nessuno ha il coraggio di dirlo perché beh comunque così almeno portiamo a casa qualche soldino qualche cosa però alla prima volta del bambino che dice re è nudo e si è nudo ma non c'è una vera diciamo giusta buonaria aggressività nel dire l'Europa si merita di più da qui in poi l'unica cosa che posso dirvi è il programma è già bene o male strutturato su appunto la struttura di Horizon di Horizon 2020 le FET avranno qualche qualche rimodulazione il discorso delle mission io ho visto come è stata fatta quando è nata la FET Flagship Quantum io non ho capito che differenza c'è tra la struttura della FET Flagship Quantum e la struttura di Mission perché c'è bisogno di inventare un altro nome solo per giustificare una carriera politica di qualcuno bastava rindirizzare un attimo il chiedere magari semplicemente anche a Brain Simulation di avere una più efficace collaborazione e spread delle informazioni alla gente normale certo che è un po' difficile far capire alla gente normale che cos'è l'entanglement io glielo dissi al presidente perché addirittura voleva fare poi chiudo veramente voleva fare una specie di referendum chiedendo alla gente alla gente normale quali sono i temi che avrebbero voluto fossero finanziati dai soldi europei proprio tu commissario che ti sei appassionato dell'entanglement perché il nostro il nostro bravo bravo fisico è andato gliela ha menata gliela ha condita bene si è entusiasmato eccetera eccetera se non fosse venuto Tommaso Calarco a insegnarti sta cosa tu l'avresti scritto il nome mi interessa quantum technologies nella nella risposta al tuo referendum no come si fa a basare lo sviluppo della scienza della delle collaborazioni con l'industria veramente creare una crescita sostenibile delle nostre aziende e la crescita sostenibile è data solo se dietro hai sempre un push un'entrata di idee nuove di ricerca eccetera se no comunque io penso che alla fine saremmo messi bene rinnovato entusiasmato penso che il CNR più di altri sarà pronto anche perché noi le collaborazioni con le aziende le visioni di sistema eccetera abbiamo più esempio dell'università io vedo la vedrò la vedo difficile per il mondo accademico noi siamo più vaccinati diciamo da queste poi per il resto vi terremo informati l'unica cosa sola ci sono due correnti molto chiare c'è chi vuole arrivare a definire tutto prima delle prossime elezioni per ovvi motivi perché si teme una ristrutturazione globale del Parlamento eccetera e altri che invece o per proprio interesse cioè dire aspettiamo il prossimo se vinco io quei soldi li uso per quello che voglio io e poi ci sono però anche paesi piccoli che nella struttura di quella di adesso di Horizon Europe sono penalizzati per cui sono penalizzati restano come era con Horizon Horizon 2020 per cui loro dicono sì è vero c'è il rischio che dopo sia peggio ma tanto per me è peggio anche adesso per cui non c'è una spinta chiara a finire a definire prima delle elezioni di maggio grazie grazie molto Angelo per questa chiara analisi diciamo vista dal punto di vista di Bruxelles e anche diciamo anche controcorrente per certi versi ho sentito questioni trionfalistiche da molte persone ma quello che tu dici io concordo al 100% non ho capito se vuoi uscire dell'euro o no ma questo ne parliamo con calma scherzi a parte dicevo adesso vorrei sentire un attimo la voce della collega Michela spagnuolo cominciamo in ordine inverso per gender issue mi tocca anche rappresentare l'anima femminile dell'informatica non vorrei dire ci sono più donne di quanto sono presenti a questo tavolo allora io sono da febbraio direttore di un istituto interessante che mette insieme matematica e informatica come approccio diciamo alla soluzione dei problemi alla ricerca come primo commento una piccola risposta a quanto ho sentito nella prima parte spero non sia vista in maniera molto provocatoria ci vuole sicuramente un CNR più attento e mi piace il fatto di vedere industria che si rivolge al CNR chiedendo un supporto anche nella definizione di obiettivi strategici il CNR da solo e la ricerca pubblica da solo non può essere la risposta a un'assenza di ricerca industriale quindi ci vuole a mio avviso uno sforzo da entrambe le parti come istituto abbiamo una bella esperienza dal punto di vista di collaborazione con industria abbiamo lavorato negli anni passati con contratti con partner industriali importanti la Michelin la Hutchinson la Total Ansaldo in Italia Esaote in Liguria addirittura con temi che toccano anche progetti IRC quindi l'eccellenza scientifica e l'interesse industriale possono a volte addirittura andare a braccetto quindi da questo punto di vista l'esperienza dell'IMATI almeno è interessante un pochino meno interessante diventa quando andiamo a lavorare sul territorio regionale che ho sentito prima citare da qualcuno come strumento i fondi regionali come buono strumento di collaborazione su questo come istituto devo dire che non abbiamo avuto una gran bella esperienza più che altro perché molto spesso soprattutto le piccole e medie imprese vengono da noi nell'ottica di dire cosa c'è di pronto che ci può servire cioè uno svilimento dell'open innovation come modello di collaborazione si dovranno costruire insieme i risultati interessanti per entrambe le parti quindi sì sicuramente a livello regionale c'è un potenziale molto forte il CNR è stato forse in grado di dimostrarlo in Liguria è stato nominato prima il centro di competenze Start 4.0 che posso dire è stato recuperato all'ultimo proprio grazie all'intervento del CNR chi ha partecipato lo sa è un'opportunità ottima dal punto di vista sia della ricerca dell'innovazione e soprattutto del comunicare alla società l'importanza della ricerca e della ricerca industriale per un evidente impatto sul territorio Ligure un'ultima cosa che volevo sottolineare che non è stata nominata e che potrebbe essere interessante è passata forse un pochino sotto tono una cosa che a mio avviso è importante a luglio è stata firmata una convenzione tra il CNR e Confindustria per l'attivazione di dottorati industriali cofinanziati al 50% da CNR e da Confindustria questo è uno strumento molto interessante noi siamo andati avanti mi sono stupita comunque da Limatico un istituto medio non grande informatica e matematica sono partite bene otto proposte di dottorati industriali probabilmente riusciamo a portarne a casa una è importante avremo bisogno dal punto di vista del CNR questo forse è un messaggio a Emilio di un maggiore aiuto agli istituti verso il trasferimento tecnologico parlo di cose abbastanza piccole come un aiuto dall'ufficio di valorizzazione impostare bene il discorso IPR un aiuto un pochino più sistematico proprio per affrontare questo tipo di problematiche grazie Michela serie 1 vita vita dalla trincea passiamo adesso ad un altro istituto diciamo il più grosso istituto informatica che abbiamo in al CNR listi e il suo direttore Claudio Montane sì io per la verità avevo inizialmente preparato 5 o 6 slide che non ho caricato perché un po' perché lo suite di contesto oggi mi sembrava durasse più degli interventi un po' perché di fatto era almeno la prima parte era una lamentazione partivo da alcuni dati dell'istituto per quello che io considero il trasferimento di tecnologie il trasferimento di conoscenza puro cioè quello non mediato dalla commissione europea non mediato dalle regioni o non mediato dal ministero e in questo caso la percentuale in termini di valore dei progetti che portiamo a casa attivi nel 2017 era molto bassa era intorno al 4% quindi mi rendo conto che abbiamo delle difficoltà difficoltà che di fatto in parte sono relative a noi al ricercatore che non trova nel trasferimento la possibilità di fare carriera ha una difficoltà che ha ben sottolineato Emilio cioè l'unico circolo virtuoso che c'era uno dei circoli virtuosi che c'era nel CNR è quello di poter acquisire risorse facendo anche servizi facendo trasferimento con quelle risorse portare a casa nuove persone giovani che potessero veramente fare ricerca anche su altri temi è stato bruscamente interrotto credo che una responsabilità almeno a livello nazionale mi riferivo soltanto all'industria nazionale sia anche dell'industria mi sembra che sia un dato oggettivo che l'industria in Italia non investe come investono altre industrie in altri paesi in altri paesi in ricerca e sviluppo da lì distribuivo un po' di responsabilità noi abbiamo tentato negli anni in cui anche ho avuto la fortuna di fare il presidente dell'area non soltanto i direttori di istituto abbiamo tentato in diverse occasioni di avvicinare la nostra offerta all'industria del territorio con i matchmaking con la mediazione delle regioni con la mediazione delle banche i risultati sono stati abbastanza scarsi credo lo ripeto sempre il trasferimento è uno sport di contatto che richiede conoscenza reciproca richiede di parlare lo stesso linguaggio richiede che chi deve esprimere la domanda riesca a esprimere una domanda che sia comprensibile a chi ha l'offerta e viceversa e questo non sempre è vero di fatto non volevo parlarvi di queste cose perché mi sembrava veramente una lamentazione me l'ho riproposto di concludere semplicemente con un dato che secondo me ritengo importante e lo dico non soltanto perché l'istituto ha una parte importante su questi argomenti ma perché credo che veramente possa essere un'opportunità e l'opportunità al di là dell'analisi abbastanza negativa del dottor Volpi l'opportunità secondo me nel futuro verrà proprio dall'openness cioè l'Europa spinge molto su questo discorso dell'apertura open science open access quindi questo se funziona se va avanti sarà un'opportunità che verrà sperabilmente sfruttata anche dall'industria nel senso che ci sarà ci potrà essere condivisione di dati ci potrà essere condivisione di risultati ci potrà essere condivisioni a tutto livello non sto parlando necessariamente di open science ma in generale di quello che può essere sfruttato anche a livello dell'industria anche l'industria che ora non può permettersi di partecipare a bandi europei o l'industria che non riesce a esprimere la domanda in un certo modo mi sembra di aver capito che nel programma Horizon Europe circa oltre 28 miliardi di euro saranno investiti in questa openness ad ampio spettro mi sembra che ognuno tutti gli stati membri gli enti si dovranno attrezzare chi non è già attrezzato per creare infrastrutture che siano di natura regionale ma anche più ampia direi globale a fronte mi dispiace dirlo di una non perfetta allineamento su questo argomento del CNR il CNR attualmente mi sembra non abbia nemmeno un repository che si può dichiarare open access e sicuramente non ha una politica per l'open access però vanto almeno a livello di istituto dei risultati importanti Paolo Manghi e in parte anche Donatella Castelli li hanno citati nel loro intervento quindi non mi ripeto su questo però sottolineo credo che possa essere l'unico dato a mio avviso positivo almeno nella mia presentazione che questo discorso dell'openness diffuso potrà in qualche modo influire positivamente anche nel rapporto enti di ricerca cioè pubblico privato grazie ora chiedo a Pino di dare la sua visione un po' di questo anche perché la sua posizione di direttore di un istituto che si è posto nel regno delle due Sicilie e quindi fondamentalmente diciamo Napoli Cosenza e Palermo rappresentano non solo dal punto di vista geografico ma anche dal punto di vista delle opportunità che ci stanno per esempio penso ai PON penso al rapporto con l'Europa diciamo non limitando se è questo la tua visione dei fatti sì grazie Mimo io prendo spunto da quello che hanno detto i colleghi prima nel senso che chiaramente c'è il discorso del modello d'open innovation che dovrebbe in qualche maniera favorire il partenerato pubblico privato quindi brevemente vi racconto un po' quelle esperienze diciamo del mio istituto su questo campo noi diciamo da circa 5-6 anni partecipiamo attivamente a due grossi partenariati pubblico privati stabili nel senso che facciamo parte di alcune società consortili quindi formate da industrie piccole e medie imprese università e il CNR dobbiamo dire che abbiamo fortunatamente anche un certo ruolo di rappresentanza diciamo in questi partenariati e sono le esperienze che anche in qualche maniera stiamo portando in due settori di nostro interesse che sono la parte diciamo dell'IELT e la parte sui beni culturali cosa dire chiaramente il modello dell'open innovation nasce appunto per favorire questo connubio di valorizzazione la ricerca trasferimento tecnologico e anche fondamentalmente la possibilità di attrarre risorse in maniera mirata da questa collaborazione e questo diciamo è stato favorito chiaramente dal fatto sia che partecipiamo a progetti nazionali ma anche data la territorialità il fatto che insistiamo su tre regioni che hanno tramite i fondi europei diciamo dei bacini di finanziamento agevolati rispetto al centro nord questo è inutile negarlo che per certi versi può essere un bene per certi versi no perché nel senso che poi molte volte se tra virgolette la competition non è particolarmente forte si finanzia la qualunque questo è il punto non è il nostro caso almeno spero e quindi diciamo questo e molte volte poi scoraggia giustamente i colleghi come si diceva ad applicarsi sulla parte europea perché l'effort con scarsissime risultati non è comparabile con rete di successo quando si agisce sul territorio nazionale e soprattutto regionale poi in particolare con un istituto che la nostra tipologia è un istituto AST quindi particolarmente richiesto sul territorio questa è la parte diciamo positiva e si riescono a fare anche delle cose interessanti siamo su progetti interessanti proprio però per dire portare anche un discorso di riflessione al tavolo però quello che noi notiamo rispetto a questa esperienza che ripeto va avanti da parecchi anni è che le aziende hanno una visione rispetto alla collaborazione lasciatemi passare il terreno un po' opportunistica nel senso che molti disponibili da collaborare laddove sono progetti di ricerca finanziati dall'esterno chiaramente l'investimento legato al fatto che l'azienda su alcune tematiche diciamo che reputa strategiche coinvolga la parte scientifica e di ricerca questa cosa è sempre diciamo in misura molto molto bassa quindi della serie c'è una bella idea ci sono dei finanziari dei progetti partecipati insieme ma se quello che riparte molte volte c'è il classico conto terzi per noi è ridotto all'umicina quindi si trova sempre questo modello di cooperazione che perché da certi punti di vista è giusto ma molte volte far capire che la professione all'investimento dell'azienda non è sempre così forte questo è il punto un'altra cosa che qualche volta abbiamo riscontrato è che se specialmente nelle grandi aziende dove ci sono delle strutturazioni molto settoriali paradossalmente è solo al stesso interno che la parte research non segue quella business e viceversa quindi tu ti trovi a lavorare e vedi che poi il discorso di innovazione e trasferimento tecnologico non arriva sul mercato proprio perché non ci sono queste osmosi all'interno dei grossi gruppi questo abbiamo visto poi il problema non è solo assolutamente la parte aziendale anche la parte nostra perché cosa succede e in dubbio dire anche forse per le problematiche che diceva Emilio prima che molte volte anche la parte ricerca è poco incline a seguire anche a livello progettuale quelle che sono le attività di ricerca industriale secondo il timing le competenze e le necessità della parte industriale molte volte c'è sempre questo discorso della parte di ricerca noi facciamo questo poi se ti serve riserva non è questo quindi sicuramente bisogna trovare un punto di contatto che renda il modello dell'open innovation reale perché altrimenti è sulla carta quindi io dico secondo me il avere strutture e partenari stabili sicuramente ci aiuta perché da parecchi anni comunque con queste aziende e nell'ambito di questi partenariati continuiamo a lavorare e presentare progettualità insieme quindi sicuramente si è aperto un buon filone d'altorno dello stesso dipartimento con questi incontri e iniziative e accordi con le grandi aziende sta di fatto portando questo modello ripeto va sicuramente perfezionato lo scambio nel senso per capire che l'azienda se ci investe deve investire al di là del questo è una politica che applichiamo anche noi al nostro istituto se c'è un'attività che ritorniamo interessante cominciamo a investirci noi poi cerchiamo di prendere come potenziale con la ricerca di finanziamenti sul mercato questo è il punto ma anche da parte nostra dobbiamo far capire ai nostri colleghi che diciamo la collaborazione con l'industria non è una diminuzione del nostro anzi è un valore aggiunto se produciamo bene se lavoriamo bene se produciamo risultati l'ultimo dei problemi è quello delle pubblicazioni perché verranno naturalmente c'è la parte scientifica e quando tu dai risposte innovative e nuove di ampio respiro scientifico a problemi reali che è quello poi diciamo che il paese in qualche maniera ci chiede grazie grazie a questo punto noi vediamo vogliamo il parere di un membro del consiglio scientifico come sapete il consiglio scientifico del CNR si compone di personalità outstanding nei loro settori una di queste è Marco Conti per il settore nostro e che di fatto dovrebbe essere fare la consulente verso la presidenza nei confronti delle strategie di altissimo livello che l'ente deve in qualche maniera disegnare e poi tentare conforme le implementazioni tramite il dipartimento quindi passerei a Marco la palla di questo tipo di argomento ammesso che sia consono con ok grazie Mimo e buonasera a tutti intanto allora diciamo la domanda che Mimo mi ha posto mi ha fatto anche riflettere un attimo su diciamo non solo qual è la mia visione ma insomma qual è la visione delle persone che sono intorno al tavolo con me quando abbiamo un consiglio scientifico e devo dire che è una visione che apparentemente può sembrare molto in conflitto con quello che il buon ingegner Pileri chiedeva perché però in realtà non è vero poi andando avanti si vedrà che non è vero però diciamo quello che il consiglio scientifico deve fare è dare una visione strategica per l'ente quindi non può essere una visione a domani è una visione mediamente a medio e lungo termine quindi quali sono le grandi sfide della ricerca ed è anche interessante perché nel consiglio scientifico ci sono persone che vengono da vari paesi europei Germania Spagna e tutti hanno una visione del fatto che prima di tutto un ente come il CNR deve affrontare le grandi sfide della ricerca non la sfida di domattina ma una sfida challenging e sul medio termine medio lungo termine questo vuol dire che si parte con una ricerca che deve essere di tipo blue sky research questo non può prescindere il CNR non può prescindere da questo perché semplicemente se avesse un obiettivo a breve termine non avrebbe l'obiettivo della sua missione sarebbe quasi come se facesse concorrenza all'industria e non sarebbe nemmeno utile all'industria cioè il CNR deve in primo luogo avere degli obiettivi ambiziosi di avanzamento della conoscenza e questi tipicamente hanno delle target medio lungo termine e diciamo fra questo mi sono anche posto come DTET come ICT ad esempio quale può essere una grande sfida che noi abbiamo davanti adesso e che secondo me stiamo un po' trascurando è quella del quantum quantum computing quantum communication è un paradigma che sta avanzando io vedo invece il settore informatico fermo rispetto a questo i fisici stanno camminando rischiamo un domani che se questo paradigma ha successo noi saremo come informatici sconfitti completamente e quindi secondo me questo è un momento per partire su questo settore anche perché secondo me il ricercatore di successo deve essere un pioniere e non un follower non dobbiamo aspettare che il quantum lo facciano tutti per poi dire mi metto anch'io a fare il quantum bisogna per incidere essere fra i primi e quindi diciamo secondo me è una sfida che non possiamo lasciare ad altri ai fisici e chimici come informatici dobbiamo impegnarci in questa direzione ci sono motivazioni anche a livello europeo c'è un tema emergente che è quello del quantum internet è appena partita la flagship sulle quantum technologies è inaugurata il mese scorso c'è un miliardo di euro investito su questo settore l'Italia è molto ben messa non solo il CNR ma è interessante anche vedere che il chair dell'advisory board della flagship è un membro del consiglio scientifico del CNR il professor Mlinek e diciamo su questo noi dobbiamo secondo me investire il ricercatore deve avere una visione deve avere un obiettivo che sia alto di lungo termine e molto sfidante ma questo non è in contrasto poi appunto quello che dicevo con la visione dell'ingegner Pileri perché noi un anno fa insieme all'ingegner Pileri abbiamo lanciato un progetto che si chiama Qualcomm che in comunque incomincia a inserire queste tecnologie quello che è già disponibile la quantum key distribution ad esempio provarla a inserire dentro le architetture tradizionali di rete quindi diciamo sì l'obiettivo è quello di guardare la sfida in avanti ma mano a mano che cominciano ad arrivare i risultati la quantum key distribution non è una cosa ormai è una cosa dietro l'angolo comunque che si può cominciare a utilizzare incominciamo a vedere insieme all'industria cosa si può fare e questo aiuta anche l'industria perché la porta a innovare il prodotto molto in avanti cioè non il piccolo passettino ma eventualmente un salto tecnologico quindi quantum è stato presentato ad agosto è uscita la gradatoria è una posizione ragionevole spero che il MIUR finirà per finanziarlo come è stato detto i PON sono un programma insomma su cui il paese dovrebbe riflettere secondo me dovrebbe chiuderli e partire con una nuova programmazione perché non è pensabile che si finanzia in maniera retroattiva nel senso che ti dicano ok ora il tuo progetto è approvato e dimmi cosa è fatto nei due anni precedenti perché questa è la realtà viene è uno spreco di denaro pubblico da corte dei conti secondo me però a parte quello voglio dire sicuramente questo è l'approccio cioè andare in avanti molto in avanti e mano a mano che arrivano i risultati cercare insieme all'industria di sfruttarli però non si può guardare al breve termine il CNR deve avere la sfida davanti e deve essere con la voglia di trovare veramente conoscenza di sratti di conoscenza nuova perché se no solo in questo modo si può aiutare le aziende veramente a innovare il prodotto ed essere i primi sul mercato internazionale altrimenti se si fa il piccolo delta gli altri paesi vanno molto più veloci di noi la Cina gli Stati Uniti quindi quello deve essere l'obiettivo del CNR aiutare le imprese sì ma facendo vera innovazione vero salto tecnologico vera tecnologia disruptive ultimo aspetto che volevo toccare riguardava la pubblica amministrazione visto che nella domanda di Mimo c'era anche quella diciamo qui siamo ancora più indietro io ho avuto modo di toccare il problema della pubblica amministrazione della digitalizzazione della pubblica amministrazione quando ero direttore di dipartimento Mimo se lo ricorderà lui fece un ottimo lavoro con la polizia di stato facendogli il piano delle telecomunicazioni e lì appunto la pubblica amministrazione ha un grosso bisogno di supporto da parte del CNR in quanto terza parte che può fornire l'indicazione del processo del progetto alla pubblica amministrazione io lo sto toccando adesso sto facendo un'attività per il ministero dell'agricoltura e vi devo dire che è scandaloso il livello in cui l'informatica versa all'interno della pubblica amministrazione nel ministero dell'agricoltura vengono arrogati 8 miliardi l'anno usando un sistema informativo su cui spendono decine di milioni l'anno che è una cosa obsoleta progettata 20 anni fa hanno un centro di calcolo che si regge con un camion mobile che ogni tanto va lì per fornirgli l'energia non ci sono informatici e gli informatici se ci sono vengono visti come quelli che attaccano il pc la stampante e altro quindi l'altra missione del CNR sicuramente è quella di supportare il paese la pubblica amministrazione nella transizione verso il digitale e il CNR per questo è ben visto però dobbiamo farci avanti e dare una mano grazie condivido totalmente quello che dice solo che dal punto di vista della realpolitik dico che mal si coniuga questa necessità che noi dobbiamo giocare sempre all'attacco per fare un discorso malcistico che io condivido perfettamente col fatto che il 97% del nostro fondo con cui veniamo diciamo alimentati dal ministero se ne va in stipendi ma non perché dobbiamo ridurre la gente perché dovremmo incrementarla visto che il rapporto è 5 a 8 tra 5 ricercatori ogni 1000 impiegati diciamo a livello europeo rispetto all'8-9 quindi questo significa che si è vero però la realpolitik ci porta a dover agire a cercare fondi la ricerca di fondi alle volte è spasmodica per le regioni dette prima ciao grazie Emilio grazie e buon viaggio dicevo la ricerca è spasmodica quindi bisogna a mio avviso a mio avviso cercare di agire giocare sì all'attacco per usare un discorso malcistico ma nel contempo anche tener conto di quella situazione che veniva rincata anche da Marco che noi abbiamo competenze per poter fornire alla pubblica amministrazione o a parte dell'industria questo tipo di attività quindi secondo me è un gioco all'attacco per certi versi a difesa anche dall'altro decidete voi chi è l'attacco chi è la difesa a rischio di essere impopolare a rischio di essere impopolare vista l'ora diciamo del venerdì pomeriggio siccome il primo ha dato un messaggio forte però pensavo che ci fosse un secondo tempo nell'intervento allora me lo prendo e ringrazio per la disponibilità allora io penso che a fianco a sfide di questo tipo che sicuramente sono compito di un istituto come il vostro riprendendo il tuo discorso Mimmo io penso che ci sia una sfida grossissima che abbiamo davanti ovvero l'infrastruttura digitale che è stata costruita negli ultimi 40 anni 50 anni è un'infrastruttura estremamente fragile perché è stata costruita come le prime ferrovie con i ponti con le travi di legno e le carrozze aperte e allora adesso noi abbiamo su questa infrastruttura abbiamo messo in gioco il funzionamento della nostra economia della nostra democrazia come tutto il tema delle fake news rileva del funzionamento anche dell'interazione sociale ed è fragile come era fragile la ferrovia agli inizi dell'Ottocento guardatevi qualche libro di storia su cosa succedeva nella ferrovia nei primi anni magari lo sapete meglio di me allora lì c'è veramente il seme del riscatto anche perché c'è una concezione chiara sia a livello governativo italiano sia a livello europeo che non tutto può venire da fuori e quindi si sta anche cominciando a pensare dei fondi di sostegno alla domanda allora io vedrei molto bene se riuscissimo a definire degli obiettivi comuni che aiutino anche all'industrializzazione di questa infrastruttura come ha detto Zanero non può passare a trovare un bug poi un altro poi un altro poi un altro ha bisogno di soluzioni sistemiche ha bisogno di metodologie per fare per realizzare sistemi trusted con componenti untrusted perché sappiamo anche quanti componenti non europee e neanche occidentali sono nelle nostre rete di telecomunicazione faccio un esempio allora queste sono delle sfide concrete con applicazioni molto rilevanti su cui si potrebbe cominciare a sviluppare dei prodotti anche alcuni io vedo che ci sono alcune componenti l'analisi del malware se andiamo nella cyber security determinate altre componenti sulla criptografia che hanno sicuramente uno scopo nazionale altre che hanno uno scopo europeo allora utilizzando in maniera efficiente i finanziamenti dei prossimi programmi quadri e sperando che in questi programmi come mi sembra ci sia ci sarà un sostegno alla domanda per queste componenti che si è deciso di realizzare con tecnologie europee perché ci sono queste componenti io vedo veramente lo spazio per vincere il secondo tempo dell'ICT e se vediamo la storia della ferrovia in Europa abbiamo l'alta velocità negli Stati Uniti la ferrovia è scomparsa salvo per il trasporto merci perché qui siamo stati capaci di una politica industriale e di un affinamento costante che ha portato all'infrastruttura che è di livello mondiale bene grazie allora io volevo per rispetto alle colleghe e ai colleghi che con molta pazienza sono riusciti a stare fino adesso volevo chiedere c'è qualche domanda in sala prima di chiudere questo panel prego se ti avvicini mi fai una cortesia così ti passo grazie e grazie ho sentito tante prospettive interessantissime io io sono un ricercatore dell'uso del CNR profondamente dell'uso ma veramente a livelli molto molto profondi purtroppo sono uno di quelli che secondo me come altri qua credono tanto nella missione ci impiegano 10 ore al giorno fine settimana sul water ovunque sono sempre lì che però trovo una fatica tremenda perché assieme ai miei colleghi come vedo voi perché poi molti di voi sono miei colleghi e hanno questa bellissima visione di quello che dovrebbe essere la scienza e si parla di come poterla implementare e di che direzioni dobbiamo prendere quando poi al nocciolo manchiamo nella struttura nella logica che ci permette di fare queste cose ora Mimmo menzionava questo periodo in cui non possiamo spendere soldi non si possono spendere soldi abbiamo centinaia di migliaia di euro che ci hanno dato grazie a fondi strutturali che ci permetterebbero di fare certe cose ma non si può esiste questa distanza che è tangibile tra gli istituti e la vera vita dei ricercatori e quali sono le loro necessità e le cose che dovrebbero poter riuscire a fare in maniera snelle e veloce e lente c'è questa distanza enorme tra lente e i ricercatori che hanno le armi hanno gli strumenti hanno l'esperienza prendono fondi prendono progetti vorrebbero poter investire sulle persone e non lo possono fare perché? perché non c'è un piano di assunzioni perché le leggi vengono fatte senza tenere conto di veramente qual è la logica e il bisogno di chi poi deve muoversi nella ricerca e questi sono limiti enormi di cui ci conviviamo ormai ma sono limiti enormi sono veramente il problema strutturale perché è vero che abbiamo il 95% dei fondi spesi in salari ma è anche vero che il CNR sembrano avere nessuna percezione di quello che è il nostro bisogno anche dei fondi che abbiamo ora ad esempio espandersi è bene non è male il precariato è bene se ben impostato è l'inizio di una fase di un ricercatore ma deve esistere il precariato non è che adesso non deve esistere quando vengono fatte queste scelte ogni volta è una martellata sull'entusiasmo dei ricercatori perché c'è proprio questa sensazione che chi è là che non sentiamo più nostro perché purtroppo io veramente io sento tantissimo lo dico sempre spesso ai miei colleghi non lo dovrei dire ma io sento listi perché listi è la dimensione in cui nonostante là si cerca di fare tutto no? e si cerca di trovare una soluzione ai problemi abbiamo un'amministrazione eccezionale abbiamo un direttore insomma ci ci prova siete idealisti idealisti esatto però è questo secondo me le cose che avete detto sono meravigliose ma mi piacerebbe venire solo discusse ai tavoli di chi poi deciderà la visione del CNR e che poi implementerà pratiche che si trasformeranno in ciò che avete detto e consigliato sarebbe meraviglioso e potrei voler essere lì mi candido ma è un po' complicato cosa avete in mente? c'è qualche altro commento prima che facciamo diamo la parola a Stefano e a qualche direttore che vuole chiusare questo Stefano se me la rifà per favore soprattutto ai suoi colleghi se la fa scusi vista tutta questa serie di problemi altri che non ho nemmeno menzionato potrei che cosa effettivamente tra le varie cose che avete discusso una visione di cosa dovrebbe fare il CNR nella valutazione della ricerca nel rapporto dell'industria ma cosa dovrebbe fare il CNR per migliorare se stesso da questo punto di vista cioè in sostanza per mettere quei flussi che dovrebbero essere naturali in un ente per permettere ai ricercatori di riconoscersi nello stesso ente e di investire in quell'ente anziché porre un freno quasi a volte illogico domanda chiarissima può rispondere Claudio non ce l'ho la risposta non ce l'ho io comunque ripeto siccome siamo di sabato io una risposta diciamo ce l'ho ce l'ho la risposta e la risposta si chiama resistere 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 insistere 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 con tutte le forme democratiche possibili d'accordo con l'entusiasmo che deve essere l'ultimo a spegnersi l'ultimo a spegnersi lavorando dall'interno per cambiare le cose non è facile da parte nostra della io credo Michela Marco Claudio Pino dei direttori o assimilabili c'è tutto lo sforzo la dimostrazione che in 102 abbiamo firmato un documento recentemente che è andato al Presidente della Repubblica sullo stato del finanziamento al CNR che se non ci danno in maniera strutturale 100 milioni di euro in più allo stitico 508 milioni di euro che serve per 95% per gli stipendi in condizione prima di stabilizzazione d'accordo noi non riusciremo ad andare da nessuna parte questa è la verità dei fatti noi più di fare questo e dirlo a destra e a manca con il vostro supporto non possiamo fare altro esatto però scusami Mimmo con tutto quello che poi avete detto su cui sono d'accordo è vero con Marco che bisogna guardare avanti sul medio lungo per il CNR sì aspetta un attimo è vero è vero ma è vero anche che se ho bisogno di 100 milioni come stai dicendo tu ma non è detto che questi qui questi soldi debbano soltanto venire dalle stitiche casse del stato ma non che non lo voglia fare perché io credo che lo voglia fare chiunque chiunque politico che ci abbia un minimo ma credo che ci sia un'intelligenza medio alta che conduce quando i nostri rappresentanti vanno al governo ma il problema è che poi facciamo i conti con quello che sentite e sentiamo tutti i giorni il debito enorme le cose eccetera anche impostazioni bene quindi che la ricerca sia una priorità è importante allora io dico scusatemi andiamocele andatele a prendere anche altrove magari rispetto al discorso che fa Marco ok in un certo periodo storico privilegiamo di più il medio termine perdonami più che il lunghissimo termine però ne va della vita di questa straordinaria istituzione che è il CNR e allora a un certo punto in qualche era storica occorre fare accettare un compromesso maggiore e questo è lo stimolo che io vi do stasera scusatemi rispondendo Stefano ti ringrazio di questo però volevo far notare che su quei 509 milioni di euro che noi abbiamo come fondo del ministero noi attraiamo fondi per arrivare quasi a quasi a un miliardo di euro quindi con nostre capacità quindi noi quello sforzo lo facciamo solo che se faccio il paragone di un aereo noi stiamo arrivando alla velocità di stallo perché se non ci danno quella quota strutturale stimata in 100 milioni di euro che noi non possiamo andarci a prendere perché la nostra capacità di competizione nell'assetto attuale sempre parlando di aeroplano è rappresentato da quel delta che va dai 509 milioni di euro che ci danno a quasi un miliardo che noi riusciamo a portare a casa che sono circa 390-40 quindi noi lo sforzo l'abbiamo fatto solo che siamo sicuri che se questa situazione strutturale quindi non adesso una tantum non avviene visto anche le necessarie sacrosante stabilizzazioni che non sono il problema sono parte della soluzione noi non ce la faremo quindi la capacità di andare a cercare ulteriormente è in realtà frenata dal fatto che noi abbiamo già raggiunto almeno con le performance che siamo in grado di esprimere il massimo della nostra velocità ecco perché il rapporto con voi il rapporto con gli altri è un rapporto sempre più importante certo anch'io non ho la risposta penso però che il resistere 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 insistere 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 è fondamentale l'altra cosa il problema del CNR non sta solo nel CNR io come mia esperienza professionale ho lavorato 12 anni in Giappone 4 anni ho lavorato su un razzo per cui ho visto in pratica il lavoro 8 anni ho fatto l'addetto scientifico dell'ambasciata e ho visto l'organizzazione come si è evoluta l'organizzazione del Giappone sulla ricerca il problema quando dico non è il problema del CNR noi stiamo pagando errori del sistema della ricerca italiana il sistema della ricerca italiana non è solo il CNR noi abbiamo e lo vedo a Bruxelles abbiamo migliaia di duplicazioni abbiamo fette di istituti non di istituti scusate sì di istituti nazionali non so gli NFN fa delle cose che facciamo anche noi l'Enea poverini loro vanno a cercare di fare le cose che fanno già tutti gli altri eccetera allora il è scappato sì ah scusa quando ha detto i soldi vanno anche bisogna anche capire dove andare a prendere allora non è solo dire date più soldi del CNR guardate che quei soldi del CNR possono arrivare automaticamente se si evitano le duplicazioni nel sistema nazionale della ricerca i tedeschi il Max Planck fa una cosa fra un offer ne fa un'altra come si diceva fa un altro livello uno sapere l'altro collaborazione con l'industria in Giappone c'è addirittura l'Institute of Advanced Science and Technology solamente per le industrie a mio avviso finché non si si rimette mano a una cosa così sarà difficile far saltare fuori salteranno fuori le lemosine quelle magari per tranquillizzarti due mesi poi dopo due mesi siamo di nuovo incacchiati se non cambia allora io ringrazio tutte le persone le colleghe i colleghi e i nostri ospiti e ospiti e chiudo questo convegno che mi pare sia stato abbastanza stimolante come cibo per il pensiero grazie a tutti e buon finisettro grazie a tutti